ciao a tutti e benvenuti all'angolo del novellino oggi unboxing è arrivato un pacco direttamente da pesaro signore e signori lo andiamo ad aprire lo andiamo ad aprire con le forbici allora cercando di non rovinarlo cercando di vedere dove sono le giunture io farei così farei così ok è ben impacchettato quindi complimenti a chi me l'ha spedito ma che lo so chi me l'ha spedito vabbè qua c'è la carta che teniamo non si sa mai ok qua c'è la giuntura andiamo ad aprire ok cercando di non rovinare il contenuto perché mi sparo ok mannaggia pensavate che ero morto è che non facevo più video e invece no comunque o sia per signore e si apre e ma deve aprirsi ragazzi e ragazze magari c'è qualche ragazza che ci serve qualche signora che ci serve che fuma la pipa non lo so ben impacchettato attenzione poi vediamo una scatola aspettate che ve la faccio vedere una scatola con su scritto vediamo se si legge mastro de paia e poi cos'altro c'è scritto dal 1972 in italy non so se si legge io quello leggo al contrario ma mi sa che poi dopo lo leggete bene ok poi abbiamo un'altra scatola mastro de paia dal 1972 in italy e poi abbiamo un scusate qua c'è troppa roba togliamo e poi abbiamo un pacchettino un pacchettino signore e signori apriamo prima il pacchettino nel pacchettino cosa ci sarà mai la card platina adesso non vi faccio vedere il nome e cognome e la card platino c'è scritto qua card platino numero 102 purtroppo aspettate poi ci sono i due buchi della mastro de paia dalla card ci sono i due buchi per l'alloggiamento del portapipa vediamo se secondo me qua apriamo quest'altro pacco signori attenzione qua c'è l'alloggiamento per il portapipe attenzione eccolo qua questo ciocchetto è bellissimo fatto in radica vedete car platino vabbè l'avete visto la metto qua così si vede qua così si vede andiamo ad aprire il primo sacchettino signori e signori guardate che bella signori mastro de paia fatta mano made in italy 04 guardate che bella guardate dritta come l'ho chiesta pettinata 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 non so se si vede se si vede la pettinatura da moicano no quella mia bellissima bellissima grazie al signor montini grazie di cuore e poi signori e vediamo se ci sta sulla sul vediamo un po ci sta da dio e poi signori e signori andiamo però la rimettiamo nel sacchetto e poi signor e signora arriviamo al pezzo forte arriviamo al pezzo forte signori e signori mamma mia signori mamma mia questo sacchettino è in velluto anche un buon profumo è in velluto comunque in velluto c'è un profumo qua che deve essere così in velluto ma questo è in pelle signore e signori è in pelle mastro de paia dal 1972 in italy in pelle signore e signori non ci credo è bellissimo lo andiamo ad aprire vediamo un po cosa contiene wow wow andiamo bene la 45esimo rusticata guardate che bella meravigliosa meravigliosa veramente meravigliosa guardate che bellissimo è veramente bellissimo stupenda con questa vera dorata che non sarà sicuramente oro pre dorata bellissima doppia vera anzi perché c'è la vera qua e la vera qua andiamo a vedere smontando il bocchino vedete qua così deve essere un foro da 9 guardate che meraviglia è una meraviglia una pipa davvero bella volevo prendere la liscia ma la prenderò anche liscia è davvero bella davvero magnifica pretrattata col carbonato precarbonata col non so se si vede con il con il il cammino il bracere precarbonato il foro del come si chiama non mi vengono le parole perché è bellissima ragazzi è bellissimo con il il cammino il cammino il cammino precarbonato ma non credo sia carbone credo che sia altre cose e vediamo l'altra che non avevo visto il il cammino si anche questa con l'easy road questa l'easy road signori se si dice così l'easy road non mi ricordo per caricare meglio la pipa bellissimo guardate le guardate le signori spettacolari 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 grazie mille al signor montile ringrazio di cuore il signor montini la signora montini e tutto lo staff della master de paia perché sono dei professionisti seri disponibili e fantastici veramente di ringrazio di cuore ora mettiamo a posto vediamo se ci sta questa qua sopra vediamo che ci sta ci sta spettacolo spettacolo no questa va nel in quello di pelle va bene ragazzi il video è venuto di dieci minuti e mezzo io vi ringrazio per avermi ascoltato per aver visto le pipe che mi sono arrivate aspettate non finisce qua perché insieme alla 45esimo che quella che quella rusticata mi arriva un foglio con tutte dunque pre pregiate pipe d'altro d'alto artigianato dalle mani di artigiani la lunga straordinaria strada dal ciocco al fiammifero guardate che belle foto guardate che belle foto scusate se mi trema la mano ma così è guardate guardate che belle spettacolari questo fogliettino lo terrò sempre con me qua metto a posto mentre metto a posto vi saluto alla prossima perché sta per arrivare un'altra pipa direttamente da non vi dico dove e farò un altro unboxing entro il 20 dicembre state collegati state connessi stay tuned e buone fumate amici ciao